E rimaniamo sul tema della salute, dagli antibiotici al cortisone e carenza di alcuni farmaci in tutte le farmacie. Allarme tra i consumatori, ma l'AIFA e Federpharma rassicurano e invitano ad usare i farmaci generici o equivalenti. Marilena Pastore. Non è una difficoltà solo di questo territorio, ma è nazionale, addirittura mondiale. Ci sono farmaci introvabili, altri indisponibili, ma per un tempo che ormai ha superato la normale difficoltà di approvvigionamento che si verifica ciclicamente tutti gli anni. Negli ultimi tempi la situazione sembra essere peggiorata e gli stessi farmacisti hanno segnalato che fanno più fatica a reperire alcune categorie di medicinali di uso comune, mentre al contempo si sta allungando la lista dei farmaci temporaneamente carenti. Ci troviamo di fronte a questa problematica ormai da diversi mesi. Ci sono molti farmaci che purtroppo sono mancanti a seguito di problemi sia della catena di produzione che di distribuzione. Spesso siamo costretti a rispondere ai pazienti che il farmaco non è disponibile e non sappiamo quando lo diventerà, a differenza del passato in cui il problema era molto più transitorio, molto più breve. Adesso esistono comunque soluzioni alternative, quindi il paziente ha la garanzia di proseguire la terapia con il farmaco generico, il farmaco equivalente o comunque con altri brand che magari in questo momento sono disponibili rispetto a quelli prescritti, quindi ci vuole soltanto un po' di comprensione e collaborazione in modo tale da poter proseguire la terapia prescritta. Speriamo che questa crisi generalizzata che non riguarda solo l'Italia ma addirittura si parla di un problema globale dovuto appunto alla sintesi e alla produzione delle materie prime possa risolversi quanto prima perché chiaramente ne risentiamo tutti a cominciare anche dalle aziende farmaceutiche che non possono garantire le consegne che spesso nella migliore delle ipotesi si prolungano troppo in avanti. Non c'è nessun allarme tale da dover produrre un approvvigionamento eccessivo da parte dell'utenza perché è sufficiente curarsi per quello che viene prescritto dal medico o comunque per quello che serve e se non è disponibile il farmaco richiesto, come già detto, comunque una soluzione si riesce sempre a trovare.